Allora, io sono Rebecca e devo indovinare loro. Siamo miglior amica e abbiamo già fatto quale video e siamo dopo citate. Allora, io sono più citata perché è la prima volta che siamo su YouTube, quindi siamo un po' interessanti, no? Che altro dire? Ah, parleremo oggi della ragazza di Zayn. Caspita, ecco. È antipaticissima. Cioè, come fa Zayn a mettersi così antipatica? Eh, prima è biondo. Prima era biondo e poi si ha sempre colori, sempre con me. Prima era biondo, ora è viola. È viola. Cioè, è molto oca. È molto oca. L'altra volta mi ricordo che stavo venendo a mio TV e avevano fatto... Volevano fare un'intervista a Zayn di sorpresa. Appena usciti da casa di Zayn, la ragazza di Zayn era con lui e si è annoiata e ha fatto... Ufff, questi giornalisti, amore, andiamocene. E Zayn mi ha detto un secondo e la ragazza l'ha prescindato via. Senti, Zayn, se stai guardando questo video, noi siamo contenti, però non mi piace che stai con questa ragazza. Io ho gli occhi di corvo e quindi mi raccomando, non mostrati più, lasciala. So che non mi vorrei sentire, però la ragazza che avevi prima era molto più carina di questa. Che fracchino. Quanto di sorriso che ha? Scusate, non mi sono... Allora, le regalo, li vedo qua. Allora, è questo. Diciamo che la ragazza di Zayn non è un esempio da prendere. E quindi, diciamo, se stai con la ragazza di Zayn aprite bene gli occhi. E non... Non state più dalla sua parte, perché... Insomma, è un zio, insomma, se fossi io mi suiciderei, mi butterei da un mare, ok? Quindi, guardi se stai con la ragazza di Zayn, ti cedo a te la parola. Ciao! Ciao! Non posso staccare l'istituzione un attimo? Allora, ci vediamo più tardi con un altro video. Dateci qua sotto. Qua sotto? Aspetta. Qua sotto. Sì, sotto. Sotto. Mettete dei commenti, ok? E continuate. E mette mi piaci. Esatto, per favore, mette mi piace. Magari, per darci un po' di soddisfazione. E per favore, ci consigliate qualcosa? Consigliate qualcosa su cui parlare, perché abbiamo finito gli argomenti. Vi prego, aiutate. Certamente non sappiamo più cosa fare. Facciamo un video canattino altamente, poi nessuno mette mi piace. Ok, ciao. Ciao! Ciao! Ciao!